Non abbiamo capito. Il governo e la chiesa economica ci hanno tagliato tanti punti, siamo stati bravi a prendere i soldi da altre parti. Quindi significa alta qualità progettuale, capacità di produrre risultati tecnici che hanno prodotto risultati economici sulla città. Perché purtroppo nel periodo che ci abbiamo davanti saranno prodotti i risultati, ma non perché vogliamo andare in campagna elettorale e mettere carne al fuoco. La carne viene prodotta, i risultati vengono dati e oggi usciamo la carne. È un percorso. Se ci fossero stati soldi dell'amministrazione, probabilmente avremmo fatto anche lì. Ma dovendo andare a prendere soldi, produrre progetti e avere finanziamenti, i tempi ci sono allungati. Quindi oggi esce il primo progetto plus vero dei lavori pubblici, perché già un bando è già stato avviato. Questo è il primo progetto plus che vaga, naturalmente diciamo per esempio quello progettualmente più semplice, per certi versi, progettualmente più semplice da produrre. Perché parliamo di via Genova. Via Genova è, credo, diciamo pure che da venerdì scorso è di proprietà della ministrazione comunale e per questo motivo possiamo produrre questo risultato. Senza fa colpa a nessuno, mi mancherà il bel altro. Però, dare un problema a nessuno. Iniziamo il progetto, l'assessore e l'architetto Gaia, dirigente del settore, illustrano il progetto, così almeno vedrete come riviverà via Genova. Sì, sì, questo ci arriva, ma solamente due parole, perché qua lascio l'archietto, che è la descrizione, che come ha detto giustamente il sindaco, è il progetto più semplice, ma comunque la parte significativa che è di oggi, quello che dicevamo alcuni mesi fa, che forse non era ancora ben chiaro a tutti, e che ormai è un processo, questo che è partito, e che con queste tappe, che vogliamo portare a conoscenza della città, ma anche dell'imprenditoria locale, perché sappia attraverso la vostra opera che dalla prossima settimana ci daranno questo guanto di gara, che sono 900 mila euro. Quindi, per dare anche un ossigeno alla comunità locale, in cui abbia questa comunicazione, perché a volte ci sembra che con l'elenco delle dinte che partecipano alle gare, e dentro da questa amministrazione, che ci sia poca partecipazione da tutte le nostre locale. Quindi, in questo momento particolare, è la utilizzazione di quel famoso progetto Plus, che fino a settembre, ottobre, l'ultima volta che ci siamo parlati, cante motobanco, durante tutta l'estate, con le varie istituzioni che voi ben ricordate, un progetto che diventa realtà oggi, con questo primo bando di gara, a tutte le cose che sono dette nel passato, chi cambiava, chi non cambiava, chi vuole rimodificare. Questo porta all'economia midempese una boccata di ossigeno e poi un ulteriore accesso alla città, perché questo viaggero, che voi e tutti noi conosciamo, si è detto bene, di proprietà dell'amministrazione comunale, da avere il discorso, è un altro accesso alla città, perché arriva dalla parte di Seminello, che funziona, arriva a viaggere, quindi un accesso in cui tutti troveranno un parcheggio ben distribuito, un ereto urbano degno di un arrivo dal Seminello, perché chi lascia la sua strada e arriva a viaggere, adesso l'accesso è così un pochetto parziale. E da qui in poi partirà, se vi ricordate, il parco dell'Arcenello, perché la parte al monte, la parte alla progettazione, prevedeva l'aggancio da via Genova, con la partenza, quindi per seguire il parco dell'Arcenello. Questo, diciamo, è il linea di massima dell'oggetto. Poi lasciamo la descrizione da Chietto Gai, che come progettista e comunque sia responsabile di tutto questo meccanismo difficilissimo, perché quello di questa piccola progettazione, molto semplice, perché si tratta di sistemazione del reto urbano, ma ha percorso una vicenda lunghissima con le approvazioni da parte della Regione Lazio, i rapporti di tutti gli organismi, genere civile, ente certificatore esterno, quello che servirà per gli altri progetti che già ci stanno facendo. Quindi su questo abbiamo fatto una specie di aprivista che ci ha permesso adesso di affrontare con più tranquillità le opere più importanti che andremo a incustare da qui a un mese, perché entro questo mese ormai entrano tutte e usciranno tutte le gare. Quindi lascio la parola a Chietto Gai per maggiori dettagli.